Consegnati ai palati più fini o semplicemente a chi ha voglia di un buon piatto L'idea alla base di un'app lanciata nel Salento ce la fa conoscere Gianluca Lovagnini Buon bustaglie, esigenti, all'erci al fast food e appassionati della buona cucina col pallino dei fornelli Nasce a Lecce la prima applicazione di food delivery che mette insieme chi ama mangiare, chi ama cucinare I piatti sono preparati in casa e consegnati a domicilio, ci si registra come porchette rispetto all'arduo compito di scegliere, ordinare, mangiare e valutare le pietanze oppure ci si arruola come sottocuoti Si va dalla casalinga che cucina comunque ogni giorno per la sua famiglia al professionista che ha la grande passione per i fornelli agli studenti ad esempio che stanno percorrendo lo studio alberghiero ma che ancora non si sono inseriti nel mondo del lavoro Antipasti, primi, secondi e dolci ce n'è per tutti Ma quanto sei figo ai fornelli, Paolo Cantele Sono già una ventina per tutti, parole d'ordine, qualità e autenticità Prodotti freschi, prodotti stagionali e una cucina tradizionale, una cucina semplice e che può diventare un'opportunità di lavoro importante anche per il futuro E così anche uno spaghettone con spinaci e ricotta può essere confezionato con quel tocco gourmet che mette d'accordo gli afficionatus del posto, sognatori di menù stellati e magari anche quei viaggiatori che non si accontentano dei soliti menù turistici Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie olde Grazie a tutti